Buonasera a tutti, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di 25 punti base come era nelle previsioni, peraltro il comunicato che ha accompagnato questo ennesimo rialzo dei tassi è stato molto hawkish, come dicono gli americani, perché non sono esclusi ulteriori nuovi rialzi, nonostante questo come vediamo, vi condivido subito lo schermo, in realtà la reazione è ancora tutto sommato abbastanza contenuta perché siamo andati oltre il meno 1% di variazione negativa per i Dow Jones, poi siamo tornati a meno 0,70, meno 0,65 e adesso stiamo tornando verso il meno 1%, però dovremo ovviamente aspettare la conferenza di Powell, poi domani ne parleremo in maniera approfondita e capire in chiusura come sarà il risponso definitivo del mercato a questo primo round delle banche centrali, perché domani ovviamente c'è la BCE. Se facciamo uno sguardo sulla cadela dell'informazione, fino a questo momento vediamo che continua il trading range, su Dow Jones che pure è nuovamente il peggior indice americano e non è stata persa al momento la media mobile a 50, 33,648, lo Standard & Poor's è in trading range per cui deve chiudere sopra 4.077 per dare un segnale di poter raggiungere il massimo del 27 gennaio a 4.094, il Nasdaq è al momento in una doge, l'indice più forte, però sta confermando il superamento avvenuto già nella seduta di ieri della media mobile a 211.478, continua bene o male la lateralità sul DAX, sul CAC e sull'Eurostox, mentre noi oggi abbiamo provato a fare un nuovo massimo di periodo, cioè siamo riusciti a fare un nuovo massimo di periodo a 26.895, ma abbiamo poi ritracciato e al momento siamo poco sopra il livello di supporto fondamentale che è 26.735, ex resistenza diventata supporto. Vi allargo un attimo la schermata così vedete meglio, abbiamo fatto il massimo in realtà in mattinata attorno ai 9.75, adesso è importante questa sera una chiusura sopra 26.735. Mi scuso con voi, vi faccio vedere subito la schermata di sfera perché c'è telecom sospesa in after hour, non ho ancora trovato notizie, sono altissimi i volumi per l'after hour per il mercato serale perché telecom 8 milioni in condizioni normali, non li fa mai, c'è addirittura denaro sul più 5, anche la risparmio è molto forte, quindi mi aspetto che debba uscire qualche indiscrezione, magari scrivetemelo nei commenti, poi faremo magari anche un'analisi, però vedrete, anzi ve la faccio subito, che purtroppo è ovviamente ferma alla chiusura del mercato diurno, per cui oggi era addirittura su un triplo quadruplo massimo, non era ancora riuscita a rompere lo 0.2681, come è accaduto per TOTS sulla pubblicazione dei ricavi preliminari che già qualche seduta fa in after hour era salita molto, adesso vedrete che domani sicuramente aprirà in gap e aspettiamo conferme, perché credo che qualche indiscrezione stia già circolata, a me non è ancora arrivato nulla e uscirà anche magari qualche notizia che possa chiarirci il perché di questa forza in after hour. Un altro titolo che mi avete rimproverato per non aver fatto è Saras, avete perfettamente ragione, Io come vi ho detto qui sono stato scottato perché io mi sono chiuso in questa seduta, quella del 26 gennaio, per me il titolo qui era destinato a una distribuzione che sarebbe potuta arrivare anche in area 1.30, quando io mi chiudo a 1.48, peraltro avevo il titolo 1.10, e ieri mi fa questa rottura, io non ho il coraggio di rientrare, è uno dei miei limiti, ho sempre detto di non essere un trader perfetto, però Saras me ne voglio occupare perché è uscito questo comunicato societario alle 18.51, è un po' complicato, me lo sono letto prima, perché è un'operazione che si chiama Funded Collar Derivate Contract tra Bank of America, Securities Europe SA e la Angel Capital Management SPA per 47.576.140 azioni, praticamente queste azioni sono di Angel Capital Management e la Angel Capital Management ha un'opzione put per queste azioni e Bank of America ha un'opzione call, vedete qua c'è spiegata l'operazione, esercizio automatico a ricorrere le relative condizioni con settlement in denaro, ferma restando la facoltà di Angel Capital Management di optare per la fisica al delivery delle azioni sottostanti. A garanzia delle obbligazioni finanziarie relative alle operazioni assunte, la società ha contestualmente stipulato un contratto di impegno con Bank of America avente l'oggetto delle stesse azioni oggetto del collar che prevede che il diritto di voto rimanga in capo ad Angel Capital Management, salvo in caso di default, anche sul saldo di un conto di liquidità apposintamente costituito. L'operazione prevede l'erogazione di un prestito ad Angel Capital Management per un importo calcolato e ragione numero di azioni ordinarie SARAS sottostanti l'operazione collar e di un prezzo di riferimento quantificato di sensi del contratto collar che sarà rimborsato a rate alla scadenza di ciascuna tranche dell'operazione collar. Ripeto, è un'operazione piuttosto complicata, credo che potranno emergere ulteriori specifiche che ci faranno capire meglio perché per l'operatività su SARAS è importante capire a che prezzo Bank of America può esercitare la call, perché un conto se la può esercitare a 1,30, un conto se la può esercitare a 2. per cui secondo me è un prestito che praticamente Angel Capital Management riceve da Bank of America e a garanzia da 47 milioni e mezzo di azioni. Però vedremo di tornarci. Graficamente oggi aveva ulteriormente rotto al rialzo e se andiamo a prendere un grafico settimanale vedete che ormai è avviata SARAS a raggiungere i livelli dei massimi di fine ottobre, inizio novembre del 2019 e parliamo di area 1,80. Ovviamente dovremo verificare se questa operazione straordinaria avrà impatto sul titolo per chi è ancora in posizione avendo un micro gap da chiudere a 1,59,3 suggerirei di uscire sotto 1,59,3 ma adesso veniamo a guardare i volumi scambiati di oggi vedete che c'è talmente tanto interesse sulle banche in questo periodo che stiamo tornando a volumi più consoni 2,757 milioni faremo come al solito un po' di fuzzi Mib e poi qualche tema specifico uno lo voglio fare subito perché non voglio assolutamente dimenticarmelo ed è TOZ non perché io la detengo nel portafoglio della mia newsletter finanziaria a prezzi molto buoni ma perché il titolo veramente sembra ormai impostato per andare almeno a chiudere il gap che aveva lasciato aperto a 38,76 poi c'è un altro a 40,24 io continuo a mantenere il titolo per il momento ho uno stop profit sotto 35,96 che è il massimo di ieri se domani mi va ancora su me lo alzerò a 37,38 quindi TOZ titolo sicuramente molto interessante so che qualcuno ce l'ha ovviamente ancora per l'OPA saltata dopo le ultime sedute c'è qualche speranza che il titolo possa ritornare nei prezzi dei prezzi d'OPA quindi di area 40 veniamo ai titoli migliori del fuzzi Mib poi facciamo i peggiori facciamo un po' di MTA Biper ancora compratissima vedete che Suta in frame settimanale ha rotto anche l'importante livello di 2,48 il prossimo target è 2,67 e mezzo oggi ha fatto un massimo 2,62,6 e poi la chiusura del gap lasciato aperto a 2,714 per quanto riguarda STM invece è andata diciamo sui massimi di periodo perché aveva fatto un massimo il 27 di gennaio a 44,08 oggi ha fatto 44,205 anche questo è un titolo che graficamente ha ancora spazio di salita direi almeno fino al massimo di metà gennaio dello scorso anno che è 45,1 siccome è un titolo molto tirato con anche il gap veramente importante da chiudere a 39,45 io vi avevo consigliato il 41,40 come stop se domani dovesse ancora salire lo alzerei addirittura a 44,08 poi abbiamo Unipol Unipol non ha rotto in maniera definitiva perché la rottura era a 4,91 e mezzo ha chiuso un tic sotto dopo massimo in 3 a 4,94 e 3 però è ancora possibile per le prossime sedute un ritorno a 4,98 e mezzo e poi fino in area 5,10 mi ha sorpreso vi devo dire la verità Interpump Interpump sembrava indirizzata secondo me almeno su questi minimi della prima decada di gennaio della prima metà di gennaio 46,6 46,62 oggi fa una bellissima long white e rompe la ribassista di breve per cui per domani potrebbe proseguire ancora la fase di recupero direi fino a 49,94 massimo del 23 di gennaio scorso tra i titoli peggiori abbiamo ricordati ricordati un titolo che purtroppo quando il mercato è in una fase di forza soffre sempre un po' aveva già perso ieri la media mobile a 200 40,45 aveva chiuso praticamente su quella a 50 40,12 e oggi addirittura si è andata a appoggiare su quella a 100 che transita a 39,04 ha fatto un minimo a 38,96 poi ha chiuso a 39,11 il target a questo punto è addirittura a 38,20 minimo del 6 di gennaio scorso poi debole ancora Enel Enel è in una situazione abbastanza difficile perché mira alla media mobile a 200 5,16 dopodiché ha un supporto importante poco sopra area 5 e oggi sono stati venduti anche i petroliferi Eni che ha fatto addirittura un ingolfo in bilice ed ha chiuso sostanzialmente sulla media mobile a 50 in realtà qualche tic sotto media mobile a 50 13,86 chiusura 13,846 e il titolo è indirizzato almeno su questi livelli che sono poco sotto area 13,30 direi 13,28,6 minimo del 30 dicembre e poi debole anche Tenaris che ha praticamente fatto ugualmente un ingolfo in bilice per domani il target potrebbe essere 15,75 e mezzo e poi un ritorno a 15,53 e mezzo avendo la media mobile a 100 poco sotto a 15,49 bisognerà poi vedere adesso non ho ancora e mi scuso con voi ho avuto tempo di documentarmi oggi credo ci fosse la riunione dell'OPEC Plus non credo che sia emerso un'ora di nuovo tant'è che il petrolio era anche piuttosto debole veniamo adesso ai titoli al di fuori del Fuzi Mib Energy allora Energy io devo dire che anche qui sono molto sorpreso nuovo massimo storico anche se è un titolo che ha poca storia è quotato da inizio agosto dell'anno scorso era uscito su questa prima accelerazione a rialzo da più di 18,5 del 25 di gennaio il resoconto sui dati preliminari di fatturato peraltro molto buoni oggi ha fatto questo numero incredibile ve la faccio vedere perché ripeto desidero che allarghiate quantomeno la cerchia dei titoli da seguire poi questo per me è scappato però comunque è un tema che dovreste imparare poi assolutamente OBS sono usciti i ricavi i ricavi preliminari e anche le bidda e stamattina se vi ricordate ve ne avevo anche parlato vi avevo detto guardate graficamente è impostata per andare fino a 2,024 questi dati hanno ovviamente spostato l'andamento di breve periodo hanno permesso un'apertura hanno causato un'apertura in forte gap rimane da chiudere quello sul massimo di ieri 2,212 volumi mostruosi titolo massimo in 3,258 chiusura a 2,52 ma area 2,40 che era questa fortissima area di resistenza statica è stata superata per le prossime sedute il target potenziale è sul massimo della shooting star sul time frame settimanale relativa alla prima settimana di febbraio dello scorso anno 2,768 ovviamente lo stop profit è sotto area 2,40 poi vi voglio mostrare il caso di convergenze perché ha fatto quasi una contro candela rispetto a ieri ecco la candela di ieri a questo punto non me la spiego perché sono usciti anche qui i ricavi preliminari ha fatto più 58% quindi un risultato di comunque buon interesse per il mercato anche se vi ho già parlato anche di questo aspetto i dati preliminari servono un po' poco tra i commenti ho visto che mi avete chiesto per esempio di house automation anche se automotion non è una cattiva società però dovremo valutarla in maniera più completa quando rilascerà anche le marginalità stessa cosa per convergenze però oggi ha fatto comunque dei buoni volumi e ha fatto e ha quasi ricoperto la candela di ieri per cui la direzionalità ci sarà quando uscirà dalla candela di ieri perché quella di oggi è un inside quindi sopra 2,51 o sotto 2,22 poi fatemi vedere i volumi dei grandi viaggi perché ecco i grandi viaggi devo dire che temevo volumi molto più bassi invece oggi conferma la rottura della media mobile a 200 e parlo di 0,875 volumi per il titolo piuttosto importanti target per le prossime sedute almeno 0,986 e poi eventualmente 1,025 ha pubblicato anche questo me l'avete scritto nei commenti NWP i ricavi preliminari sono stati piuttosto buoni però anche qui non abbiamo la possibilità di valutare in maniera adeguata la società perché il fatturato vi faccio sempre esempio di Farmè Farmè fa volumi importantissimi a livello di ricavi però poi non ha marginalità perché chiude regolarmente i propri esercizi in perdita mentre è meglio piuttosto fatturare meno ma avere ovviamente dell'utile a fine anno volumi non pazzeschi ma per il titolo neanche male perché dicono pazzeschi perché fondamentalmente siamo comunque sotto gli 80.000 euro di controvalore scambiato per domani potrebbe proseguire fino in area 2.90 anche magari qualcosina in più poi a 3.08 transita la media mobile a 100 poi bellissimo movimento di calta girone editore ha fatto addirittura 1.1085 qui vi svelo un segreto io avevo il titolo oggi sono uscito perché mi ero accorto che c'era una sorta di macchinetta asteriscata in area 1 la macchinetta asteriscata è quella che praticamente non blocca come un asterisco la possibilità di comprare la lettera dietro il prezzo dove c'è la macchinetta asteriscata invece con l'asterisco continuerebbe a girare il prezzo sullo stesso valore quindi comprava su e poi ritornava lettera sono riuscito a farci qualche giro ieri oggi mi hanno spazzato su e sono uscito però titolo sicuramente da seguire perché oggi ho fatto un range dell'8% intraday poi bel movimento indubbiamente di Trevi Trevi è ben comprata ha poi fatto la shooting però intendo dire si è messa a scambiare tanto oggi ha fatto un massimo di tre a 0,4395 attenzione che però qui sotto 0,376 bisogna applicare uno stop profit perché? perché il titolo oggi ha superato la media mobile a 100 0,4244 in intraday ma poi ha chiuso a 0,409 poi Karel sicuramente molto interessante perché comunque la candela di oggi dà un segnale di possibile ripartenza io detengo il titolo nel portafoglio della mia newsletter finanziaria sono stato fortunato perché avevo uno stop sotto 22,3 a questo punto per domani mi aspetto almeno un ritorno a 24,30 e poi probabilmente area 26 poi tra gli altri titoli non voglio autopromozionarmi però come dico ho una lettura sbagliata su una situazione quando un merito mi fa piacere prendere l'OBS io ho prezzi molto buoni nel portafoglio della newsletter oggi mi ha rotto a rialzo la congestione di breve peccato che abbia chiuso a 15,34 su massimo 15,76 però volumi molto alti se guardiamo un time frame settimanale il titolo può arrivare fino a 16,82 e poi a 17,29 vi devo ancora far vedere Prembo perché ha come diciamo noi in trading room in linguaggio a trading room perché purtroppo non esistono più possono esistere dei trading room virtuali come la mia dove faccio formazione permanente ma non quelle in presenza non sono ormai una merce in estinzione una razza in estinzione addirittura aveva già rotto ieri oggi ha proseguito mettiamo un time frame settimanale per vedere dove può arrivare e il target probabile è 13,52 attenzione però quando un titolo è così tirato siamo arrivati a 91 di stocastico già sopra sotto il massimo di ieri 12,40 applicherei uno stop profit potrei citarne altri di titoli ma non posso ovviamente farvi 50 titoli di MTA se no giustamente mi potreste dire ci potevi fare tutto il Fuzzimib vi faccio un po' di titoli negativi perché comunque qualche titolo venduto c'è stato New Experience domani potrebbe essere interessante perché probabilmente ritorna a testare la media mobile a 200 1,81 il target però di correzione diciamo il termine il momento correttivo potrebbe anche restarsi a 1,65 1,64 poi è stata venduta Portobello e Tor ha fatto asta ribasso ecco qui Portobello è un po' pericolosa perché oggi fa un Amarovonzu Black 34,5 33,2 ci sta tutta una correzione da ipercomprato per cui fino a 38 potrebbe anche arrivare ecco vedete prima mi sono incensato con Carell e BS invece il Novatec sta facendo fatica ieri sembrava aver dato un segnale importante anche qui ho letto tra i commenti che giustamente un iscritto al canale diceva deve rompere il rialzo parlava di 1,76 per me l'ideale sarebbe probabilmente di turare 1,79 comunque io continuo a mantenere chi fa l'operatività stretta deve darsi uno stop sotto 1,61 per comunque un'operatività di medio periodo non oltre 1,56 e 1 poi vi voglio far vedere ancora it way perché oggi è stata servita addirittura è stata sospesa per eccesso di ribasso per scostamento in realtà scusate fatto un minimo a 1,53 ma chiuso poi a 1,57 2 in questo caso è importante la tenuta di area 1,50 perché diversamente potrebbe andare fino a 1,38 poi continua il momento negativo di Italian Wine Brand questo ve l'avevo detto che la vedevo in distribuzione e ho avuto in questo caso sicuramente una lettura corretta tra poco diventa interessante perché a 26,70 abbiamo la media mobile a 200 poi abbiamo questo minimo qui a 26 del 23 di novembre scorso e a 25,95 c'è anche la media mobile a 100 e a 25,80 abbiamo un micro gap da chiudere per cui altro titolo che conviene tenere in considerazione poi vi voglio far vedere ancora KME perché seppur qui è ancora sotto in taxi anche se non è ancora detta l'ultima parola il massimo di oggi potrebbe essere un top di breve periodo 0,724 e le posizioni alziste sotto 0,662 andrebbero chiuse perché poi il titolo potrebbe raggiungere 0,618 per questa sera abbiamo concluso domani cercheremo di fare anche un recap sulle dichiarazioni di Powell commenteremo la chiusura degli indici americani faremo una stima per le preaperture europee e auguro a tutti una buona serata e vi aspetto domani prima dell'apertura del mercato diurno buonasera a tutti di l'apertura l'apertura di